Gli indicatori dell'Istat descrivono una Puglia in ritardo rispetto anche al mezzogiorno per dotazione di rete ferroviaria e autostradale. Basti pensare al sistema ferroviario pugliese che da Bari in giù non ha infrastrutture che permettono di sfruttare l'alta velocità e che sulla dorsale adriatica e nella traversale tirrenica sconta ancora strozzature del binario unico. Ma non sono solo queste le opere in attesa di completamento importanti per completare la rete di infrastrutture di trasporto e logistica in Puglia e dare ossigeno in un settore in crisi come quello edile che sta registrando una forte contrazione di occupati. Sia per quanto riguarda l'aeroporto del Salento che ancora hanno solo ripristinato una sola tratta Milano, Brindisi e Roma Brindisi quindi abbiamo bisogno comunque che venga potenziato immediatamente diciamo le tratte aeree poi teniamo tutto il problema del trasporto ferroviario che anche quello è fortemente carente e poi c'è ancora da aggiungere che c'è tutta una serie di questioni che riguardano come dire la sicurezza per quanto riguarda il trasporto soprattutto ferroviario. La Sud-Est che è l'azienda più grossa non solo della Puglia o del Mezzogiorno ma a livello nazionale ad oggi non ha iniziato come dire nemmeno ad appaltare questo servizio. Fine anno con inizi 2021 dovrebbero arrivare dei treni nuovi ma treni nuovi che dovranno continuare a viaggiare su una tratta 50 all'ora. Quello che manca è l'idea di integrazione gomma ferro. Il problema della movimentazione delle persone e delle merci è uno dei problemi fondamentali per sviluppare il turismo. Noi stiamo denunciando questa carenza assoluta di infrastrutture in termini proprio di rotaie ma anche di strade. Non c'è possibilità che arrivi l'alta velocità tant'è vero che un progetto questo pare abbandonato ormai anche dal governo. Ci hanno riportato qui le frecce bianche, le frecce argento, quelle azzurre ma sicuramente freccia rossa non potrà arrivare.